Il salotto era stretto, foderato di tendaggi pesanti e profumato con discrezione. Un gran fuoco ardeva in un ampio caminetto, posata lì sopra in un angolo, diffondeva una luce morbida, attenuata dal parallume di Trina Antica, sulle due persone che stavano conversando. Lei, la padrona di casa, era una vecchia signora dei capelli bianchi, ma una di quelle vecchie adorabili, la cui pelle senza rughe, liscia come carta fine e profumata, è tutta impregnata di aromi, intrisa fino alla carne viva dalle sottili essenze di cui l'epidermide è bagnata da tanto tempo. Una di quelle dame anziane che quando si bacia loro la mano emettono lo stesso lieve odore che ci colpisce aprendo una scatola di ciprea fiorentina all'Ireos. Lui era un amico d'altri tempi, rimasto celibe, un amico che andava da lei tutte le settimane, un buon compagno nel viaggio della vita, neanche di più. Avevano smesso di parlare da circa un minuto e guardavano entrambi il fuoco, sognando chissà cosa, in uno di quegli amichevoli silenzi propri alle persone che per trovarsi bene una accanto all'altra non hanno bisogno di parlare. Ed improvviso un grosso ceppo, irto di radici infiammate, crollò. Balzò di sopra gli alari e, lanciato nel salotto, rotolò sul tappeto, gettando intorno schegge di fuoco. La vecchia signora si alzò con uno strillo come per fuggire, mentre lui respingeva a calci nel caminetto l'enorme tizzone e spegneva con la suola gli spruzzi ardenti cosparsi intorno. Quando il disastro fu riparato, un forte odore di bruciaticcio si diffusa nel salotto. L'uomo, tornando a sedersi di fronte all'amica, la guardò, sorridendo. Ed è così, disse mostrando il ceppo ricollocato sul focolare. È così che non mi sono mai sposato. Ella lo guardò, stupita, con quell'occhio curioso delle donne che vogliono sapere, quell'occhio delle donne non più giovanissime, nel quale la curiosità è riflessa, complicata, spesso maliziosa, e domandò Come sarebbe a dire? E gli riprese Oh, è tutta una storia, una storia piuttosto triste e brutta. I miei vecchi compagni si sono spesso stupiti della freddezza subentrata nei rapporti tra me e uno dei miei migliori amici, che si chiamava Julien. Non capivano come due intimi, due inseparabili quali noi eravamo, avessero ad un tratto potuto diventare quasi estranei l'uno all'altro. Ebbene, ecco il segreto del nostro distacco. Abitavamo insieme un tempo, non ci lasciavamo mai, e l'amicizia che ci legava sembrava così forte che nulla avrebbe potuto spezzarla. Una sera l'incasando, egli mi annunciò che si sposava. Fu per me un colpo in pieno petto, come se mi avesse derubato o tradito. Quando un amico si sposa, è finita, proprio finita. L'affetto geloso di una donna, l'affetto sospettoso, inquieto e carnale, non tollera l'attaccamento franco e vigoroso, l'attaccamento di spirito, di cuore e di fiducia che si forma tra due uomini. Vedete, signora, quale che sia l'amore che li lega l'uno all'altra, l'uomo e la donna rimangono sempre estranei nell'anima e nell'intelligenza. Sono due belligeranti, appartengono a una razza diversa. Bisogna sempre che uno di loro alternativamente sia domatore e l'altro domato, uno padrone e l'altro schiavo. Uguali non sono mai. Si stringono le mani, le mani frementi d'ardore, ma non se le stringono mai con una larga e forte pressione leale, quella pressione che sembra aprire i cuori, metterli a nudo in uno slancio di affetto sincero e forte e virile. Invece di sposarsi e di procreare come consolazione per i loro vecchi giorni dei figli che li abbandoneranno, i saggi dovrebbero cercare un forte e buon amico e invecchiare con lui in quella comunione di pensiero che può esistere soltanto fra due uomini. Insomma, il mio amico Giulien si sposò. Era lezzadra, sua moglie, affascinante, una biondina con i capelli rizzi, vivace, rotondetta, e sembrava adorarlo. Nei primi tempi andavo raramente in quella casa, temendo essere d'intralcio alla loro tenerezza, sentendomi di troppo tra loro. Eppure sembrava mi desiderassero, mi chiamassero continuamente, mi volessero bene. A poco a poco mi lasciai sedurre dal dolce incanto di quella vita comune e andai spesso a pranzo da loro e spesso rincasando nottetempo pensavo di fare come lui, di prendermi una moglie, perché ora la mia casa vuota mi sembrava assai più triste. Parevano amarsi, non si lasciavano mai. Dunque una sera Giulien mi scrisse da andare a pranzo da lui. Andai. Carissimo, mi disse, quando avremo mangiato dovrò uscire per una certa faccenda. Non tornerò prima delle undici, ma alle undici precise sarò qui. Conto su di te per tener compagnia aberte. La giovane donna sorrise. D'altra parte sono stata io che ho avuto l'idea di invitarvi. Le strinse la mano. Non si potrebbe essere più gentili. E sentii sulle mie dita una pressione lunga e amichevole. Non vi badai. Ci mettemmo a tavola e già alle otto Giulien ci lasciava. Uscito che fu una sorta di strano disagio. Nacque bruscamente fra sua moglie e me. Non ci eravamo mai trovati a quattro occhi. E sebbene la nostra intimità aumentasse ogni giorno, il fatto di essere soli ci poneva in una situazione nuova. Parlai dapprima di cose vaghe, quelle cose insignificanti con le quali si colmano i silenzi imbarazzanti. Ella non rispondeva parola e rimaneva di fronte a me all'altro lato del camino, la testa bassa, lo sguardo indeciso, con un piede teso verso la fiamma, come assorta in una difficile meditazione. Quando ebbe esaurito i miei argomenti, tacqui. È strano come talvolta sia difficile trovare qualche cosa da dire. E poi sentivo un che di nuovo nell'aria, un che di invisibile, un che di impossibile a esprimersi. L'avvertimento misterioso che ci informa delle intenzioni segrete, buone o cattive, di un'altra persona a nostro riguardo. Quel silenzio penoso durò per un po' di tempo. Poi Berthe mi disse «Aggiungete un ceppo, amico mio. Vedete che il fuoco sta per spegnersi. Ha perso il cofano della legna situato proprio come il vostro e, preso un ceppo, il ciocco più grosso, lo collocai in piramide sui tizioni già consumati per tre quarti». E il silenzio ricominciò. Dopo qualche minuto il ceppo fiammeggiava in modo da cuocerci la faccia. La giovane donna alzò gli occhi su di me, occhi che mi parlerò strani. «Adesso fa troppo caldo», disse. «Andiamo sul divano». Ed eccoci seduti sul divano. Poi, d'improvviso, guardandomi bene in faccia, «Che cosa fareste se una donna vi dicesse che vi ama?» Risposi interdetto «Beh, il caso non è previsto e poi dipenderebbe dalla donna». Allora ella si mise a ridere. Era una risata secca, nervosa, fremente, una di quelle risate stridule che sembra debbano incrinare i vetri e disse «Gli uomini non sono mai né audaci né maliziosi». Tacco poi soggiunse «Paul, siete mai stato innamorato?» Confessai «Sì, ero stato innamorato». «Raccontatemi», disse lei. Le raccontai una storia qualunque. Mi ascoltava attentamente con segni frequenti di disapprovazione e disprezzo e improvvisamente «No, non ne capite nulla». Perché l'amore sia vero o assoluto bisogna, mi sembra, che sconvolga il cuore, contragga i nervi e scompigli la mente». bisogna che sia come dire pericoloso, terribile anche, quasi criminale, quasi sacrilego, come una sorta di tradimento. Intendo dire che ha bisogno di abbattere ostacoli sacri, leggi, legami fraterni, quando l'amore è tranquillo, facile, senza pericoli, legale. È veramente amore? Non sapevo più che cosa rispondere e nel mio intimo proruppi in questa esclamazione filosofica. «Oh, cervello femminile, come ti riveli?» Parlando, ella aveva assunto una certa aria indifferente da Santarellina e, appoggiata ai cuscini, si era allungata distesa, con la testa contro la mia spalla, la gonna un po' alzata, che lasciava vedere una calza di seta rossa infiammata a intervalli dai baglioli del focolare. «Dopo un minuto, vi faccio paura?» disse. Protestai e la sapoggiò del tutto al mio petto e senza guardarmi. «Se vi dicessi che vi amo, che cosa fareste?» E prima che avessi potuto trovare una risposta, le sue braccia avevano allacciato il mio collo, avevano attirato bruscamente la mia testa e le sue labbra si univano alle mie labbra. «Ah, cara amica, vi assicuro che non mi divertivo». «Come? Tradire Julien? Diventare l'amante di quella pazzarella perversa e scaltra? Certo spaventosamente sensuale alla quale il marito non bastava più? Tradire senza posa? Tradire sempre fingendo l'amore per la sola attrattiva del frutto proibito, del pericolo sfidato, dell'amicizia ingannata? No, non mi andava. Ma che fare? Imitare il casto Giuseppe? Parte veramente sciocca e per di più difficilissima poiché quella sgueldrina era sconvolgente nella sua perfidia e infiammata d'auracia e palpitante e accanita? Chi non ha mai sentito nella sua bocca il bacio profondo di una donna pronta a concedersi mi scagli la prima pietra? Insomma, un minuto di più, capite? Un minuto di più e io ero... No, ella era. Cioè, Julien era. O meglio, sarebbe stato quando un rumore terribile ci fece sobbalzare. Il ceppo, sì, il ceppo, signora. Si slanciava nel salotto rovesciando la paletta e il parafuoco, rotolando come un uragano di fiamma, incendiando il tappeto e finendo sotto una poltrona che sarebbe certo andata in fiamme. Mi precipitai come un pazzo e mentre respingevano al focolare il tizzo salvatore la porta saperse bruscamente. Julien, allegrissimo, l'incasava. Gridò sono libero, mi sono sbrigato con due ore d'anticipo. Proprio così, amica mia, senza il ceppo sarei stato colto in fragrante e voi potete immaginare anche ora con quali conseguenze. Fece in modo da non trovarmi mai più in una situazione con simile mai, mai. Poi mi accorsi che Julien mi trattava freddamente. Come si dice, senza dubbio sua moglie minava la nostra amicizia e a poco a poco mi estraniai dalla sua casa e finimmo con non vederci più. Non mi sono mai sposato. Ora questo non vi stupirà più.